L'Istituto di Vini è accreditato verso l'AICA come test center per sostenere gli esami validi al conseguimento della patente europea della qualità. Ne parliamo proprio con la responsabile del progetto, la professoressa Fabrizia Amabili. Sì, noi nella specializzazione di chimica abbiamo iniziato ad affrontare le tematiche della qualità e della certificazione dal 2002 con il progetto chimica e qualità totale. Poi nel 2010 con la nascita della patente europea della qualità che è una patente riconosciuta a livello europeo abbiamo aderito e siamo diventati test center e adesso magari nei dettagli lo spiegherà la nostra responsabile della qualità del quarto chimici. Noi studenti della specializzazione chimica del Divini siamo i primi nelle Marche ad essere preparati per sostenere la patente europea dell'EQDL, European Quality Drive License. Infatti la nostra scuola è l'unico test center nella provincia di Magerada e l'unico nelle Marche a riuscire a essere in grado di far sostenere a noi studenti l'esame. L'EQDL è una certificazione personale che attesta e possesso di requisiti minimi di conoscenza dei termini, di norme e dei metodi, dei processi utilizzati all'interno del sistema di qualità. Questa patente è uno strumento importante per noi studenti, per i neodiplomati, laureati e in più in generale per tutti coloro che si affacciano nel mondo del lavoro o che già essendo in un'azienda vogliono aumentare il loro livello di conoscenze in materia di qualità. È una conoscenza che nell'odierno della società tutti dovrebbero possedere e sempre più saranno richieste per qualsiasi professione. Noi studenti della specializzazione affrontiamo questi esami del QDL grazie a una preparazione ricevuta nei tre anni della specializzazione e in particolare con il progetto chimica e qualità totale studiamo le tematiche della qualità e della certificazione ISO 9001. Questa preparazione avviene attraverso l'applicazione all'interno dei nostri laboratori di un sistema di gestione per la qualità creato e gestito da noi studenti e dopo un percorso di conoscenza sia delle norme ISO 9001 che tramite stagio nelle aziende certificate. Con Alessandro parliamo invece dei campi in cui il progetto e QDL può essere applicato. Allora, l'EQDL è una certificazione molto importante nel mondo del lavoro perché i datori di lavoro possono richiederla in quanto nelle aziende ci possono essere le mansioni di controllo qualità, valutazione interna e i rapporti con i fornitori e i clienti. Oltre a questo campo di applicazione si può applicare anche ad altre aziende richiedendo l'iscrizione al registro degli esperti per la gestione della qualità e all'Associazione Italiana Cultura Qualità e dal CICEP, cioè il sistema di certificazione delle professioni. Grazie! Grazie!